Ha inferto Elisa venti coltellate, poi ha riposto la lama nello zainetto e si è presentato per costituirsi alla caserma dei carabinieri di Val Dobbiadene trovandola chiusa. Determinato a raccontare quello che aveva fatto, ha telefonato. La chiamata, deviata al 112, è stata ricevuta da un operatore che, resosi subito conto della gravità della situazione, ha allertato i colleghi. Si aggiungono dettagli sconcertanti alla ricostruzione dell'omicidio in Rival Piave della 35enne di Pieve di Soligo Elisa Campeol, uccisa con un coltello che Fabrizio Biscaro, 34 anni, di Col San Martino, aveva comprato la sera prima nel centro commerciale di Val Dobbiadene. Si è allontanato dal lavoro alle 7.30 del mattino, martedì, a Follina, senza dare spiegazioni, senza rincasare, dormendo in macchina, passando l'indomani a comprare dei gratta e vinci al tabaccaio. I genitori si sono presentati dai carabinieri per denunciarne la scomparsa, ma quando l'hanno rivisto ieri pomeriggio era già accusato di omicidio. Il giovane è ora rinchiuso in carcere a Santa Bona. È stato portato ieri sera, a tarda ora, ovviamente adesso nella sezione di transito, di quarantena precauzionale Covid ed è a disposizione, come in questi casi, dell'autorità giudiziaria da cui dipende in tutto e per tutto nella sua gestione. Biscaro, assistito dall'avvocato Rosa Parenti, attende ora l'udienza di convalida dell'arresto. Sotto sequestro la sua auto, il pc e il cellulare e anche la macchina di Elisa. I genitori della ragazza hanno deciso di affidarsi a loro volta a un legale, l'avvocato trevigiano Sergio Agattolio. Il pubblico ministero, Gabriella Cama, ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane barista contro cui il 34enne si sarebbe scagliato per sfogare, ha dichiarato la rabbia che gli cresceva dentro. Ha inoltre riferito di aver interrotto volontariamente da qualche mese l'assunzione dei medicinali che gli erano stati prescritti perché lo facevano stare male. Io lo conoscevo perché anche lui è mio coetaneo ed eravamo alle medie assieme. So che tipo di persona era, una persona mite, una persona che stava nelle sue, una persona silenziosa. Non mi sarei mai aspettato che ci saremmo trovati ad affrontare una terribile notizia di questo tipo. Il sindaco ha incontrato i genitori di Biscaro sconvolti, addolorati per la morte di Elisa, increduli di fronte al gesto del figlio. Mi hanno detto semplicemente che gli è crollato il mondo addosso, anche a loro ovviamente, perché quando sono stati convocati non si aspettavano che venissero informati che il loro figlio aveva fatto un omicidio.